Libri scolastici davvero troppo cari, la soluzione però può arrivare dai mercatini dei testi usati che già da decenni rappresentano una vera e propria ancora di salvezza per le famiglie siciliane. Tra gli anni 80 e 90 erano organizzati dai collettivi giovani di istituto e dai gruppi di partito. Oggi la tendenza invece si sposta sul web, in particolare su Facebook, dove gli studenti delle scuole superiori da anni si organizzano per lo scambio o la compravendita. A Catania, l'attività social è più vivace che in altri capoluoghi siciliani. Esistono gruppi chiusi e gruppi pubblici, ma anche fanpage, dove le attività di mercatino si svolgono alla luce del sole. Gli iscritti sono migliaia, provengono dalla città così come dalla provincia. Le regole sono uguali per tutti, descrizione del libro usato, foto chiare, eventuali difetti, costo trasparente. I vantaggi sono molteplici, prezzi dimezzati rispetto al prezzo di copertina, nessuna spesa di spedizione perché la consegna avviene di persona sul territorio. Ma soprattutto si avvia un rapporto di fiducia che può proseguire anche negli anni scolastici successivi. Grazie. 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 Grazie.